Anticipazioni americane Beautiful. Steffi compie una decisione inaspettata. Hope viene licenziata. Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo delle sorprendenti anticipazioni direttamente dalla sop'opera Beautiful. Non perdete nessun dettaglio perché oggi parleremo di un colpo di scena che cambierà le sorti di più personaggi. Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri futuri video. Cominciamo con una notizia bomba. Thomas ha deciso di lasciare Los Angeles insieme a Douglas. Questo grande passo non solo segna la sua uscita da Forster Creations, ma rappresenta anche il suo addio a una vita che ha costruito con successo nell'ambito del design. Ma cosa spinge un talento come Thomas a rinunciare a tutto? Il desiderio di sfuggire da Hope e il bisogno di un nuovo inizio a Parigi, dove spera di dimenticare i dolori passati e guardare avanti verso nuove opportunità. Da parte sua, Hope si trova in una situazione difficile. Nonostante una relazione solida e promettente con Thomas, ha scelto di non sposarlo. Confusa sui suoi sentimenti e ora con il cuore spezzato per la perdita di Thomas e Douglas, che considerava famiglia, Hope si vede costretta a fare i conti con la sua nuova realtà. Le cose precipitano quando scopre che sarà licenziata da Forster Creations. Il fulcro di questa crisi è il progetto Hope for the Future. Senza Thomas, il cuore creativo dietro l'iniziativa, il progetto non può continuare. In passato, Thomas era stato convinto a tornare per salvare il progetto, ma ora che ha scelto di allontanarsi definitivamente, l'azienda si vede costretta a mettere tutto in pausa. Di conseguenza, il progetto è cancellato e Hope diventa superflua. In un atto che sembra guidato dalla vendetta, Steffi decide di licenziare Hope. Questo atto non solo complica la vita professionale di Hope, ma la spinge anche in uno stato di disperazione totale. Sentendosi tradita e piena di rimorsi, Hope riflette su come le cose avrebbero potuto essere diverse se avesse scelto di sposare Thomas. Nonostante tutto, Hope non è pronta a rinunciare. Decisa a prendere in mano la sua vita, si prepara a lasciare tutto per trovare Thomas a Parigi e, nonostante sua madre cerchi di convincerla a non farlo, tentare di ricostruire il loro rapporto. La sua determinazione solleva una questione intrigante. Thomas cambierà idea quando si ritroverà faccia a faccia con Hope a Parigi? Questo è tutto per oggi. Cosa ne pensate di questi sviluppi? Thomas e Hope riusciranno a ritrovare il loro amore a Parigi? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Ci piace leggere ogni vostra opinione. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.